Applausi individuale e oggi il fatto di andare dai cittadini è sicuramente la strada migliore di avere un luogo fisico, anche imponente che si imbatte sulla tua strada e che ti induce a fare alcuni esami e sappiamo che quando si mette qualcuno che fa gli esami la gente viene come se ci fosse un aperitivo da mangiare perché da mangiare gli screening gratis io che mi giro molto scoperte che sono un'attrattiva straordinaria ma al di là di questo o grazie a questo espediente si iniziano a dare alcuni consigli importanti perché non tutti oggi abbiamo questa assoluta consapevolezza che è il mangiare bene che è il moto, che è il video che mi serve complessivamente a tutti quindi io però raccolgo l'ultima sollecitazione ho visto che ripeto sul valore della prevenzione l'avete detto l'avete attivato nella maniera migliore primo il valore del dato è un lavoro importantissimo questa card è uno strumento utile lo è la card ma lo è insieme dei 40.000 dati che sono stati racconti anche noi oggi dobbiamo andare sulla medicina preventiva cioè arrivare a fare in modo che sapendo il paziente l'età lo stile di vita altre informazioni banali si possa in qualche modo presumere che tipo di intervento possa avere le situazioni andare a investigare rispetto ad una sua situazione questo ci aiuterà moltissimo pensiamo un domani quando sarà nel nostro pronto soccorso dove uno arriverà magari o perché ha una card o anche soltanto dando alcune piccole indicazioni di massima si potrà andare a fare una diagnosi banale perché se hai 45 anni e hai male a testa di un certo tipo rispetto alla casistica dove come fai i big data l'intelligenza artificiale e iniziare a recuperare i big data è l'insieme di questi dati ma questo è già un piccolo big data evidentemente ma tutto questo non serve al simbolo solo ma serve alla sostenibilità del sistema e allora come ha detto il responsabile della protezione civile dove alla fine l'assunzione di un valore di un comportamento dei singoli serve alla collettività e all'insieme quindi a evitare voglio dire che ci sia un degrado del nostro ecosistema nel contesto in cui viviamo dobbiamo capire che se noi vogliamo trovarci nella condizione ad orientati di fronte a un evento molto importante di avere il massimo delle cure gratuiti per un sistema sanitario come il nostro che è universale e siamo tutti insieme dobbiamo insegnare ai nostri figli e iniziare noi a comportarci secondo stili di vita virtuosi perché dobbiamo vivere il più lungo possibile questo la scienza e la ricerca e l'innovazione sempre di più ce lo consentirà ma dobbiamo farlo ammalandoci il più tardi possibile con diagnosi tempestive e precoce riuscire a individuare subito la patologia che ci affligge o che è insorgente e essere curati in maniera anche qui altrettanto tempestiva di concorsi superativi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti